E' stato trasferito presso il Policlinico di Bari, Shantar Mohan Singh, il 26enne indiano, rimasto gravemente ferito nell'esplosione, verificatasi all'interno della sala macchine, della nave cargo Asso Malakal Arbor, battente bandiera di Palau presso il porto di Crotone dal 26 agosto, in quanto in avaria. Le condizioni dell'uomo restano gravi, presenta ostioni di secondo grado alla parte superiore del corpo ed una frattura ad una gamba e un piede. Nel frattempo, la procura di Crotone ha aperto un'indagine sull'esplosione che ha provocato la morte di tre uomini, tra cui il comandante dell'imbarcazione Ali Hayad Mohamed, 41 anni, di nazionalità egiziana. Gli altri due, Bishas Shilman Mera Gulshan, di nazionalità indiana, avevano rispettivamente 37 e 26 anni. Le indagini della procura serviranno a ricostruire dunque la dinamica dei fatti ed ad individuare eventuali responsabilità per l'accaduto, ma da una prima ricostruzione pare che i membri dell'equipaggio fossero intenti ad effettuare una saldatura dello scafo, quando una scintilla avrebbe innescato l'esplosione del serbatoio del carburante con il conseguente ribaltamento di uno dei due containers che si trovavano a poppa, che ha provocato la morte di almeno una delle vittime. Due cittadini egiziani di 24 e 25 anni sbarcati sulle coste crotonesi il 17 agosto scorso insieme ad altri 422 migranti sono stati arrestati dalla squadra mobile per reingresso regolare nel territorio nazionale prima dei tre anni, grazie al rilevamento delle impronte digitali e alle conseguenti comparazioni con le precedenti acquisizioni datiloscopiche presenti nella banca dati, procedura cui vengono sottoposti tutti gli extracomunitari che giungono sul territorio, è stato possibile accertare che il primo nel settembre del 2019, il quale peraltro aveva fornito nella circostanza generalità diverse, era stato colpito da decreto di espulsione emesso dal prefetto di Catania e quindi rimpatriato in Egitto, mentre al secondo era stato notificato un provvedimento di respingimento emesso nel giugno dello scorso anno dal questore della medesima città. Alla luce delle risultanze degli accertamenti i cittadini extracomunitari sono stati tratti in arresto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, l'attività di controllo del territorio effettuata dalle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura ha portato al sequestro di sostanza stupefacente di tipo Ashish e alla denuncia di un crotonese di 52 anni, una volante impegnata in una zona nell'ordinaria attività di prevenzione, ha notato un soggetto nella zona stadio, alla vista degli operatori ha accelerato il passo facendo ritenere che volesse eludere un eventuale controllo. Pertanto gli agenti lo hanno fermato ed identificato accertando che paresava peraltro un certo nervosismo. Era già stato segnalato al prefetto quale assuntore di stupefacenti per cui hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale estissa poi alla sua abitazione. Il controllo presso la sua dimora ha consentito di acquisire elementi indicativi della dedizione dell'uomo all'attività di spaccio. Infatti sono stati rinvenuti alcuni involucri contenente complessivamente 34 grammi di Ashish, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. Pertanto gli agenti hanno proceduto al sequestro del materiale e al deferimento della persona in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio.